Oh mio Dio, è vero, ho messo la mozza di mai, di Fortnite. Vabbè, quelle lì non le usano. Allora. Prendere del calcio struzzo nero. Del legno di petulla. Dippa Nelli di vetro. O.k. Da, hvað er hann? Da, hún er, hvað er hvað? Hvað er hvað? Ég er hvað er hvað? Hvað er hvað er ljóta? Hvað er hvað er hvað er hann? Nei. Lola, 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 ok credo che dovrebbe venire questo all'inizio e l'argo sette e Forse con sottilega. Chew, chew, si, 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 e aftur. S possibile? Chi fai un pozo? Prossori hija! Si, non. Ma afture il Dovrebbe essere così, senza le moto ovviamente, casa moderna senza le moto, così non posso fare tutti. Anche su Minecraft Java, io sono su te, Google. Ma riesco a... Ok. Ok. A parte i messaggi. A parte i messaggi. A parte i messaggi. A parte i messaggi. anche voi. Il volume del gioco è al massimo, cioè quello normale al massimo. Deve essere a due piatti, a tre piedi stretti. Quindi adesso è giusto. Allora, padelli di vetro, per ogni tanto, invece, il bus in ospitare di vetro, quindi se non è giusto. Il bus in ospitare è tutti questi sensi che facciamo la versione. Perchiamo! La remise? Iniziamo a fare il bus in ospitare. Perchiamo! Iniziamo a fare il bus in ospitare. La prima volta è a fare il bus in ospitare, e ad ammaiare a fare il bus in ospitare. Perchiamo! Perchiamo! Il nostro corso è il nostro corso. E' alto o' un'u tre? Intanto mi faccio no screen? E' un'u fatti? E' un'u fatti? E' un'u fatti?